Elena Mearini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Livio, piacere di risentirti. E bentornata, bentornata davvero qui nel posto delle parole per raccontare nuovamente un libro di poesie perché ce l'avamo lasciati con un libro di poesie, se ricordo bene, Strategie dell'Addio. Sì, sì, esatto, qualche anno fa. E adesso andiamo a scoprire queste nuove pagine poetiche di Elena Mearini ed Elena Mearini ci porta in questa parola che è una parola che ci coglie un po' tutti impreparati cioè l'aritmia che non è semplicemente l'aritmia per quanto riguarda l'organo del cuore ma qui lo capiremo presto con le poesie è un'aritmia che prende un po' tutti e partirei Elena Mearini dall'immagine di copertina perché questa immagine di copertina quanta aritmia ci racconta? Beh, l'immagine di copertina è un'immagine importante perché è una fotografia di Schnitzler che è un autore che io amo particolarmente ed è questa la mano di Giorgio Kiff che è in tensione e questa è la tensione che in qualche modo non capiamo bene se sta per compiere il gesto sta attendendo il gesto o se l'ha perduto e quindi c'è in questa fotografia in questa immagine io quello che vedo in queste mani sono proprio come dire c'è lo smarrimento c'è la ricerca c'è anche il gesto proprio di una continua tensione verso qualcosa che non sai bene che cosa sia quando l'aritmia poi alla fine è qualcosa che tu attendi io l'associo molto l'aritmia all'attesa è qualcosa che tu attendi ma non sai bene che cosa stai attendendo e nonostante questo ti aggrappi a quell'attesa e te ne prendi cura perché capisci che sarà fondamentale per te Eh sì, è fondamentale tra l'altro il fotografo Alfred Stiglitz il fotografo americano lo ricordiamo ha fatto molte, molte foto a George O'Keefe e sono veramente tutte quante da vedere perché Stiglitz se non ricordo male diceva per la mia curiosità nei confronti della sua fotografia diceva che fare un ritratto e pensare che scattare un ritratto quel ritratto sia il ritratto completo di una persona è veramente vano è una pretesa inutile è semplicemente una piccola inquadratura di un mondo è come quell'inquadratura delle due mani che poco fa Elena Mearini ci ha raccontato ma queste mani queste mani ci portano come dicevo a non tanto interpretare quanto a respirare insieme il respiro stesso delle poesie di questa raccolta pubblicata da Marco Saia, editore per carenza di vivi ci rivolgiamo ai fantasmi beh, devo dire che come frasi l'esergo è completamente diversa da quella che avevamo raccontato allora nella strategia dell'addio che si riferiva alla bellezza se non ricordo male a quelli che si innamorano la bellezza e la baciano sulla bocca quindi invece qua non c'è più un innamoramento non c'è qualche cos'altro c'è una carenza e lo dice questa frase stessa questa mancanza oggi la parola mancanza quanto ci dà il senso del nostro vivere Elena Mearini? ma è fondamentale perché la mancanza ci accompagna costantemente accompagna i nostri passi soprattutto in questi anni abbiamo vissuto molto un senso di privazione di mancanza di vuoto costante che ci gira attorno ma è quello stesso vuoto che ci consente la mancanza di pensare il nulla e già il pensare il nulla è comunque un essere e allora tu ti ritrovi al grado zero dell'essere quando pensi il nulla e però non ti sei perduto cioè ci sei ancora stai ancora pensando e allora è fondamentale perché secondo me arrivi veramente un po' alla radice del pensiero sul suo grado zero e da qui della mancanza secondo me ci dà la possibilità di rifondare qualcosa di rifondare una parola la lingua di rifondare il pensiero di rifondare una visione del mondo e io credo che tutte queste rifondazioni sono necessarie oggi più che mai quindi non è un aggredire la mancanza o un volerla scostare o un volerla eliminare come qualcosa di negativo è semplicemente un accorgersi che questa mancanza c'è e rendersi conto di quello che in qualche modo di come possa accompagnare il nostro pensiero di come possa farci evolvere ecco io perché è un po' di tempo che ripenso alla parola rifondare e credo che sia una parola chiave soprattutto quando c'è così tanta mancanza e così tanto vuoto hai proprio lo spazio per rifondare qualcosa anche se la mancanza in verità è sempre esistita questa frase questa frase ha molto di vita vissuta ha molto di psicoanalisi perché la mancanza nella psicoanalisi ce l'ha ben detto sia Freud in particolare in modo Lacan ma anche a proposito dei fantasmi ecco ma a proposito di mancanza e proprio Lacan diceva una cosa importante e non siamo al di fuori delle poesie scritte Enamer iniziamo dentro ma Lacan diceva più che una una mancanza dell'avere una mancanza dell'essere ed è forse proprio per questo Enamerini che ci rivolgiamo ai fantasmi che possono essere la causa del nostro desiderio Assolutamente cioè il il fantasma poi alla fine è costantemente presente quello che dici è vero cioè proprio perché ci manca l'essere cerchiamo il fantasma che c'è sempre noi i fantasmi ci accompagnano da da sempre no e sono veramente quelle assenze che sono sempre presenti e portano in sé un paradosso in in qualche modo che è irrisolvibile che però ci permette di quando noi vediamo il fantasma capiamo di avere di avere un corpo quindi è necessario anche il fantasma per confermare il nostro essere forse ecco perché ci rivolgiamo continuamente ai fantasmi però però il fantasma è un essere di silenzio non ci parla siamo noi chi diamo voce al fantasma è questo libro e questo libro si apre proprio con il silenzio vogliamo ascoltare la prima poesia Elena Merini allora io ti leggo questa allora se la mia ombra si chiamasse casa ci entrerei dentro per farmi visita a proposito di fantasmi a proposito di silenzi e questa casa e chiamarla vita esatto ancora a proposito dei fantasmi delle presenze delle scomparse diventiamo poveri così mancando presenze e intascando scomparse breve brevi poesie quasi degli aico quelle che Elena Merini ci propone in questo libro pubblicato la Marco Saia il libro intitolato Aritmia sono dei delle brevi entrate nella nostra vita e subito Elena Merini quasi come se fosse lì con la macchina fotografica il suo flash registra fotografa fissa con le immagini ma in questo caso in questo caso con parole e registra cose non così importanti registra le piccole cose per esempio registra la presenza dell'umiltà degli angoli ecco questa è una delle immagini che mi porterò dietro tra le tante di questo libro Elena Merini sì 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 ad esempio sì l'umiltà degli angoli se vuoi ecco la leggo perché forse dice di più la poesia in sé che non la spiegazione almeno quello che io spero arrivi dovreste imparare l'umiltà degli angoli che si defilano dal centro per farlo esistere così mi suggerisce la stanza ecco nella dimensione vissuta poi soprattutto perché ho scritto queste poesie che sono state pubblicate nella maggior parte durante proprio insomma l'inizio della pandemia il lockdown eccetera e ho riflettuto moltissimo sulla dimensione di casa sulla geometria delle stanze degli spazi su quanto dentro una sensazione di stabilità di informe ecco che allora la casa con le sue geometrie e la stanza diventava diventavano quasi delle alleviavano questa sensazione di informe che avevamo attorno in cui eravamo dentro e osservavo molto osservavo molto la stanza osservavo molto la casa e gli angoli gli angoli che non hanno bisogno del centro per esistere e stanno bene lì è proprio perché non sono al centro che esistono altrimenti si annullerebbero non sarebbero più angoli e in questa anche qua la dimensione in cui siamo dove dobbiamo sempre essere al centro dove l'io ha sempre bisogno di affermarsi affermarsi con una forza quasi violenta su tutto il resto delle cose allora dobbiamo ricordare che ci sono gli angoli che esistono proprio e sono fondamentali proprio perché in qualche modo accettano la loro la loro condizione d'angolo e lo fanno con un'estrema umiltà stanno lì a volte spesso nessuno li vede lo sguardo va al centro della stanza non va negli angoli ma loro sono fondamentali affinché il centro esista e quindi ecco mi ha fatto riflettere anche l'architettura delle case ma c'è un'architettura anche umana nelle case rimaniamo ancora proprio nelle prime pagine perché mi ha ricordato un libro che noi abbiamo raccontato qui nel posto delle parole ovvero i passi di mia madre spero di risparlo bene quando in una notte c'è il ricordo del padre che rappresenta le cose lontane ma c'è il ricordo della madre che rappresenta le cose perdute ecco questi due versi dedicati alla madre quanto mi hanno riportato nel libro precedente nella mia sì ecco è vero c'è c'è anche questo la poesia in particolare è stanotte c'è un padre nelle cose lontane e una madre in quelle perdute perché alla fine le cose che ci stanno attorno le cose gli oggetti intendo proprio con i quali ci circondiamo e quelli che smarriamo che perdiamo sono sono parti di noi e diventano e diventano un po' ecco i nostri i nostri compagni costanti anche compagni perduti quelli che non abbiamo più attorno però restano nel ricordo e di nuovo sono parte della riflessione attorno agli oggetti attorno alla casa attorno alle cose concrete che ci ritrovavamo a fissare magari per ore e ore e che avevamo continuamente sotto gli occhi meno si esce più osservi gli spazi in cui stai ecco e allora dicevo quante voci stanno dentro gli oggetti che abbiamo perduto quante frasi che avremmo voluto dire che non abbiamo detto quanti silenzi che abbiamo scelto di percorrere e di cui magari siamo fieri o altri invece di altri siamo pentiti ecco insomma alla fine tutti questi oggetti che abbiamo e quelli che abbiamo perduto contengono nostra madre e nostro padre perché anche grazie a loro noi siamo qui e siamo quello che siamo hanno un'importanza io ho appena fatto da poco recentemente ho fatto un trasloco quindi questo rapporto con gli oggetti che mi sono portata dietro e con quelli che ho deciso di lasciare è stato molto forte perché se lasci degli oggetti lasci indietro allora anche delle parti di te che hanno in qualche modo esaurito il loro corso forse le hai introiettate non hai più bisogno come a un certo punto non hai più bisogno di sentirti dire dalla madre dal papà stai attento quando non lo so quando esci a una certa ora le raccomandazioni che a un certo punto non hai più bisogno le hai introiettate in qualche modo ecco gli oggetti hanno un po' una anche in questo è un po' un dire lascio abbandono una certa età perché ormai l'ho superata e mi porto invece appresso quest'altro oggetto che non ha età per me che per me mi porto questo che invece rappresenta un qualcosa che deve ancora venire ecco e quindi c'è anche molto questo aspetto mi ha fatto venire in mente quando Merini parlava delle cose della casa un libro che abbiamo molto amato abbiamo raccontato anche con lo potevamo considerare un affettuoso amico del posto delle parole ovvero il filosofo Remo Bodei che tante volte è stato qui insieme con noi nel suo libro straordinario La vita delle cose quando raccontava che la parola cosa che la contrazione si ricordo bene del latino causa racconta qualche cosa che ci sta che ci sta a cuore le parole che diceva poco fa Elena Merini raccontavano proprio di cose che stanno a cuore ma questa conversazione Elena Merini noi l'abbiamo cominciata parlando di due parole la parola silenzio e la parola fantasma a un certo punto di questo libro però tornano di nuovo ma tornano in forma diversa si e stanca la parola tace solo il suo fantasma adesso dice certo che arrivare a metà di questo libro e vedere e leggere queste parole mi sono chiesto ma quanto per un poeta la stanchezza della parola racconta dice oppure non dice io credo che sia fondamentale la stanchezza della parola direi vado ancora oltre cioè direi proprio lo sfinimento della parola quando la parola non ha quasi più respiro è completamente senza forze ecco che allora è pronta a è pronta a dire è pronta a dire davvero l'inevitabile è pronta a dire l'irrinunciabile quindi è doloroso anche per chi scrive vivere la stanchezza della parola ma è un dolore necessario per dire appunto l'irrinunciabile quindi quando si sente quando si avverte questa stanchezza della parola non la bisogna abbandonare ma è proprio lì che bisogna essere ancora più accorti nell'ascolto perché assieme a questo respiro flebile esce fuori anche il dire potente ecco il dire potente anche delle cose minori e quindi delle cose minori riprendendo un verso di queste poesie esserne la piccola voce ed è lì lo sforzo della parola che che deve venire fuori anche da un punto di vista poetico perché noi che poeti non siamo non riusciamo sicuramente a intravedere o quantomeno neanche a sentire quella voce piccola delle cose delle cose minime sì le cose minori sono è un po' il discorso degli angoli le cose minori sono quelle che non hanno bisogno di gridare di essere per forza messe al centro per esistere le cose minori esistono nella linea di margine nella linea di confine e proprio perché esistono nella linea di confine sono fondamentali perché è nei confini che ci sono i passaggi fondamentali di tutto e quindi ecco che allora il margine e il confine diventano diventano rivelatori e hanno tanto da raccontarci i margini io sono sempre affascinata anche da quando sfoglio un libro dai margini dalle pagine l'occhio comunque a un certo punto leggo ma osservo sempre i margini perché i margini alla fine permettono alla parola di esistere se non ci fosse margine dove va la parola e però se ne stanno lì e sono vuoti i margini o almeno noi li vediamo vuoti noi li vediamo vuoti esatto ed è un vuoto però che consente proprio il pieno del foglio e quindi ecco tutto il discorso sul margine mi affascina insomma mi è sempre affascinata quando noi raccontiamo i libri di poesie e lo chiediamo anche a Elena Mearini facciamo un semplice gioco chiediamo alla nostra ospite a questo punto di prendere in mano il libro e aprirlo a caso che cosa troviamo? sì allora mi prendo cura dell'ultima me che resta affinché non si allontani affinché non si allontani è questo desiderio che le cose non si allontanino o se sono lontane almeno che abbiano avuto prima la cura la cura che hanno bisogno le cose e la cura di cui hanno bisogno anche le persone ricordiamo il libro tantissimo che abbiamo raccontato è Aritmia pubblicato da Marco Saia editore ed è scritto da Elena Mearini che ci regalerà ancora una poesia prego certo certo e poi qualcuno tra noi sarà residuo che resiste all'ultimo lavaggio non ci vuole altro che silenzio con la poesia perché noi nel nostro piccolo posto delle parole le poesie amiamo ascoltarle e forse non c'è nemmeno necessità di spiegarle basta semplicemente ascoltarle credo anch'io la poesia poi alla fine ha una 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 sua portata di silenzio che che continua a raccontare ascolta e quindi è quel silenzio che poi è bello che diventi diventi voce in ognuno e per ognuno come si chiama il cane di Elena Mearini io ho due cani Maya e Choice e infatti sono 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 presenti in queste poesie scodinzolano ogni tanto anche loro ogni tanto scodinzolano perché anche anche loro insomma sono 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 presenze e creature fondamentali vabbè che io amo infinitamente e devo dire loro hanno tanto a che fare con la poesia per come io intendo la poesia perché sono demoliscono tutte le le cose come dire le sovrastrutture che abbiamo loro sono dei grandi demolitori di tutte le nostre barriere perché vanno verso l'atto di libertà l'atto di libertà massima e la poesia per me è un grande atto di libertà pur iscritta in una certa forma la poesia ovviamente si distingue dalla narrativa perché chiaramente è scritta in versi c'è una metrica che può essere seguita o tradita però di fatto la struttura c'è una struttura insomma che caratterizza la poesia ma come anche loro la poesia scodinsola a volte senza ragione quando meno te l'aspetti quando scodinsola tu però devi essere pronto in qualche modo ad accorgerti come con i cani i cani quando scodinsolano sono sempre pronti poi a darti la zampa a farti un bacino a venire lì a chiederti le coccole a chiedere anche anche il momento del gioco o perché vogliono uscire ma è un po' quel dire e io ci sono sono qui vuoi essere anche tu con me e allora la poesia a volte scodincio e dice io sono qui vuoi essere anche tu con me e come fai a rispondere di no prima di salutarci Elena Merini qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni allora in questi giorni sto leggendo diverse cose sto rileggendo la scrittura del disastro appunto di Blanchot la scrittura del disastro per chi non la conoscesse in 30 secondi cosa racconta beh la scrittura del disastro in 30 secondi è complesso ma è proprio il fatto che a un certo punto dobbiamo avere il coraggio di demolire tutto ciò che che diciamo per tacere il non detto quindi tutto ciò che diciamo a copertura va demolito perché il non detto quando prende voce è davvero la potenza massima quindi ecco provochiamo il disastro per scrivere per scrivere davvero perché se non arrivi a provocare quella demolizione lì non arrivi a scrivere davvero fai qualcos'altro è una è una una simulazione della scrittura ma non è scrittura perché la scrittura deve essere follia ma intesa come la intende Maurice Blanchot e tutta quanta da scoprire grazie ancora Elena Merini grazie grazie a te è sempre un grande piacere grazie a tutti ciao Livio grazie a te